Nella classifica Scopas H-Index, formulata dalla casa editrice Elsevier di Amsterdam, che qualifica l'autorevolezza dei virologi, ho letto che gli italiani più intervistati dai giornali e nelle varie trasmissioni televisive, in questi tempi di Covid-19, hanno ottenuto un basso punteggio. Basso punteggio hanno ottenuto soprattutto gli studiosi, che fanno parte del gruppo di esperti del governo italiano. Anche a me risultano esempi di consulenti che hanno avuto poco tempo da dedicare alla ricerca pura, lontano dai riflettori e da occasioni politiche propizie alla carriera. Al contrario, i virologi italiani, che hanno ottenuto un maggior punteggio nel database di Scopas, hanno ricevuto poca o nessuna attenzione mediatica e soprattutto non risultano consulenti del governo italiano. Non c'è da stupirsi. In Italia esiste una relazione direttamente proporzionale fra carriera e politica. Cosiddetti studiosi, professori e professorini, medici in carriera ed esperti del nulla, hanno compreso quale fosse la via del successo. Conosco professori che hanno fatto carriera con articoli pubblicati nei giornali di provincia, cronaca locale e scambi di favore, fra colleghi, per sostenere figli e promuovere congiunti. Ecco, non a caso, congiunto è locuzione molto familiare alla classe politica italiana. Quale interesse avrebbe il governo e la classe politica a servirsi di consulenti che nessuno conosca personalmente? Ecco, allora avanzare l'esercito degli amici per occupare posti e ricevere prebende nel mare dei consiglieri. Consiglieri di che, se non degli amici? Conosco gente che ha dedicato la sua vita a coltivare rapporti politici attraverso piccoli raggiri di inviti e controinviti di paese per crescere nella propria carriera. Conosco altresì, ancora meglio, soggetti la cui vicinanza fisica al potere li ha catapultati nel giro di importanti presidenze e delegazioni mondiali, così come conosco autori che hanno scritto libri senza valore e a questi affidano prestigio e popolarità che evidentemente viene altrove smorzata. Concetti che non costituiscono novità, certo, ma sono la conferma, tranne consuete eccezioni, della prassi per la quale in Italia si viva esattamente così. Un intellettuale avulso da questo sistema è costretto a intraprendere certamente la via dell'estero. Vieni fuori allora la cattiva coscienza della classe politica italiana la quale periodicamente si aggrappa all'ipocrita campagna finalizzata al ritorno dei cervelli, al cosiddetto ritorno dei cervelli. È cattiva coscienza perché ancora oggi la classe politica si adopera ad assecondare amici e portaborse nei lauti compensi da consulenti nell'affaire coronavirus. Cosa importa loro? Loro, i politici, sono sempre in campagna elettorale e ben sanno che gli amici e gli amici degli amici saranno sempre grati per crescere tutti insieme in un abbraccio dalle sembianze paramafiose. Un saluto da Rocco Turi con l'intito a iscriversi al mio canale autobiografico. Grazie a tutti.